Ha senso parlare di una storia del pensiero critico o è meglio parlare di una cronologia del pensiero critico? C'è una cronologia perché nel nostro modo di conoscere non vi è vero progresso. Noi non possiamo dire che esiste una superiorità dei moderni sugli antichi o dei contemporanei. Esistono modi di pensare più che una storia del pensiero. È anche vero però che per quanto riguarda il concetto di critica si passa effettivamente nell'ambito dell'età moderna si passa da una situazione, da un approccio più ingenuo o se vogliamo più fiducioso in se stesso a un approccio molto più problematico. Questo secondo approccio porta alla luce alcuni problemi che erano contenuti nel primo. Per cui da questo punto di vista vi è una maggior consapevolezza critica nel pensiero dialettico e nel pensiero negativo rispetto al pensiero razionalistico. Ma non c'è alcuna necessità di accettare il pensiero dialettico o il pensiero negativo come superiori. L'elemento di superiorità è contenuto nell'autodefinizione di queste forme di pensiero. Sono queste che dicono di sé di essere superiori al razionalismo. Ma non è affatto detto che noi dobbiamo per forza accettare questa indicazione gerarchica. Perfetto. Tra le tante forme della critica che lei tratta una protagonista è sicuramente la teologia politica. E Carlo Schmitt, d'altronde per chi non lo sapesse il professore è uno dei massimi esperti di Schmitt. Ne approfittiamo per approfondire un pochino questa importantissima forma della critica e in particolare un suo aspetto particolarmente complesso ossia il suo rapporto con la modernità. Lei tratta più volte nel testo questo rapporto dicendo che il moderno è inconsapevole o è ingenuo rispetto alla propria origine teologico-politica. Un esempio può essere il pensiero di Hals Kelsen che esemplifica un pochino il tentativo di comprimere e ridurre interamente nella razionalità che tutto giustifica l'intero apparato politico. Mentre invece, appunto volendo nascondere, volendo mettere da parte questo nucleo invece decisionistico fondato sul nulla che non si giustifica immediato. Sorge spontanea la domanda da cosa deriva questo rapporto? È necessario? Il moderno non sa, non può, non vuole riconoscere la propria struttura, siamo condannati a questa ingenuità? La critica serve a far emergere il nesso inestricabile di mediazione e di immediatezza che sta all'origine delle forme concettuali, delle forme politiche della modernità. Adesso poi spiego che cosa ho voluto dire, intanto però lo diciamo così, che è la definizione un po' precisa. far emergere, portare alla luce il rapporto irrisolto fra mediazione e immediatezza, il rapporto necessariamente irrisolto. Se vogliamo essere ancora più pratici, il rapporto necessariamente irrisolto fra eccezione e ordine. e la critica, come la pratico io, serve a fare emergere questo, mentre serve a portare alla luce un'opacità irriducibile che resta opaca. La porti alla luce ma resta opaca. Mentre il modello dialettico che ha preceduto il modello del pensiero negativo, perché il pensiero negativo non è concepibile prima di Nietzsche sostanzialmente, mentre il modello dialettico è Hegel-Marx. Il modello dialettico è un modello critico, un modello di critica potentissima che parte dal presupposto dell'inestricabile coesistere di mediazione e immediatezza, certamente, ma ha la pretesa di non solo portarlo alla luce, questo nesso, ma di scioglierlo. di scioglierlo vuoi in una consapevolezza allargata, lo spirito, vuoi in una prassi che, dopo averlo portato alla luce, quel nesso lo taglia, lo scioglie una volta per tutte. Quel nesso nel pensiero dialettico vuol dire che in ogni parte della nostra esperienza, in ogni momento della nostra esperienza, è presente l'intero. Cioè, dentro la parte c'è il tutto. detto in un altro modo, la parte può pensare di essere autonoma e in realtà è eteronoma. E va bene. È determinata da un intero che però non è un intero metafisico, un intero massiccio, un intero integro che è superiore alla parte. È un intero che determina la parte e al tempo stesso ne è determinato. Cioè, la logica di Hegel è questa. Questa critica dialettica, detto in modo un po' più tecnico, comporta la presenza del negativo all'interno dello sviluppo del pensiero. Il negativo permane all'interno dello sviluppo del pensiero perché il negativo è la verità di ogni positivo. e la differenza enorme rispetto al pensiero razionalistico, che è ancora precedente, lo possiamo far nascere con Cartesi, con Ops, con Galileo, è che per il pensiero critico, razionalistico, moderno, invece, il negativo è qualche cosa che può e deve essere escluso dall'atto del conoscere. L'atto del conoscere è in grado di determinare il positivo e il negativo, di separarli con un taglio e di, dunque, portare non alla luce, ma portare la luce nella realtà. Dal punto di vista della verità, il pensiero, la critica razionalistica è una critica che dice la verità. Dice la verità, cioè dice se, pretende di dire la verità, ovvero, pretende di affermare il sì e il no. Non conosce il grigio, conosce solo il bianco e il nero. Il pensiero dialettico, invece, è sostanzialmente un pensiero del grigiore, un'espressione di Negel, come sappiamo, nella premessa, nella prefazione alla filosofia del diritto. Filosofia dipinge grigio su grigio, ma in generale è un pensiero della, come vi dicevo, del compenetrarsi, del negativo e del positivo. La pretesa del positivo di essere lontano, distanziato, sicuro, rispetto al negativo, è una pretesa ingente. E qui, allora, la verità è semplicemente questo, che l'intero processo, cioè lo sviluppo del positivo in un altro positivo, attraverso il negativo. Questo sviluppo è l'unica verità della quale si può parlare. Non esiste una verità, esiste un processo della verità, uno sviluppo della verità, che è saputo dalla filosofia e che è posto in essere dalla prassi rivoluzionaria. il pensiero negativo, invece, sostanzialmente dice che non esiste la verità, esistono effetti di verità, esistono decisioni per la verità, esistono dispositivi di produzione della verità. cioè il rapporto fra il pensiero e l'essere non è né diretto il razionalismo, il pensiero discrimina, entra nell'essere e lo discrimina il vero dal falso, non è dialettico, fondato sulla contraddizione, il pensiero è interno all'essere, il razionale è reale in questo senso, non nel senso di una realizzazione della verità come un cristallo in questo mondo, ma nel senso che lo sviluppo di questo mondo è l'unica ragione che abbiamo ed è comprensibile, no, per il pensiero negativo vi è una sconnessione di principio fra la realtà e il pensiero, nel senso che il pensiero della realtà può fare quello che vuole e la realtà può fare quello che vuole del pensiero, per cui massima potenza sicuramente, ma massima instabilità e qui la critica è sostanzialmente la critica delle critiche che l'hanno preceduto. Che cosa centra Carl Schmitt con tutto ciò? Centra perché Carl Schmitt è uno degli strumenti, non è l'unico strumento, ma è uno degli strumenti, ha elaborato uno degli strumenti grazie ai quali il mio obiettivo, cioè di far emergere il nesso fra mediazione immediatezza senza con la consapevolezza che il nesso non è possibile scioglierlo, Schmitt ha forgiato a questa finalità che è mia, non è sua, lo strumento, un strumento straordinariamente importante, la teologia politica, tanto importante che io lo affianco alla critica dell'economia politica di Marx, quanto a peso teorico. in che cosa consiste la teologia politica come la leggo io grazie a un input iniziale di Schmitt e attraverso un processo che naturalmente culmina in Schmitt e in quel rovescio di Schmitt che è Walter Benjamin. In che cosa consiste? Consiste in questo che l'età moderna si costruisce in discontinuità costruisce il proprio modo di pensare alla politica il proprio pensiero politico il proprio modo di pensare le categorie grazie alle quali la politica viene sussunta le costruisce con un atto di discontinuità rispetto alla tradizione la tradizione è Aristotele e il cristianesimo cioè è il lungo medioevo se vogliamo la tradizione è l'idea che esiste uno spazio un ambito l'esperienza umana che è si dispersa ma al tempo stesso è una è unitaria è si ricca di esposta la contingenza ma al tempo stesso è ben fondata la modernità non riesce più a pensare questo perché ma perché questo voleva dire pensare a Dio come fondamento e nella modernità Dio non è più il fondamento perché è l'oggetto vorrebbe esserlo ma Dio è detto in troppi modi in modi troppo diversi sono le guerre civili di religione la fine dei fondamenti il collasso dei fondamenti e allora ecco la sostituzione di Dio con l'io si dice ma insomma torniamo a noi sostituire Dio con l'io non significa niente detto così dobbiamo capire che cosa è l'io l'io è il soggetto moderno il soggetto moderno non ha le spalle sufficienti per reggere il peso della politica questo probabilmente lo crede lo ha creduto qualche liberale ma se andiamo a vedere dentro il pensiero liberale razionalistico il pensiero dei diritti il pensiero del contratto cioè il pensiero della costruzione dell'ordine politico attraverso atti di razionalità condivisa fra uguali lasciamo stare che gli uguali non erano uguali ma insomma fra uguali se andiamo a vedere ci accorgiamo che questo io in realtà è inserito all'interno di un discorso che è il discorso della tradizione ma un discorso della tradizione svuotato di fondamento questo lo vediamo con chiarezza estrema in Hobbes al quale ho dedicato molte pagine in questo libro e in altri Hobbes riduce il cristianesimo alla forma trascendentale della politica che è esattamente quello che il cristianesimo meno che mai il cattolicesimo di Bellarmino al quale gli fa riferimento è precisamente quello che non voleva il cattolicesimo il cattolicesimo pretendeva di fornire un valore fisso un punto stabile intorno a cui costruire la politica e al contrario il pensiero di Hobbes è un pensiero dell'individualismo dell'io della costruzione della politica a partire da molti io che con la ragione pongono in essere un artificio lo stato ma al tempo stesso questo pensiero è tutto iscritto all'interno di questo pensiero che nasce dalla durissima percezione dall'esperienza dell'assenza di fondamento dell'assenza di ordine questo pensiero è tutto costruito intorno a categorie ordinative sostanzialmente tradizionali cioè esiste un centro questo centro questo centro spiega i contorni che da esso si dipartono spiega la superficie spiega i confini soprattutto l'ordine non c'è ma deve esserci qual è la differenza rispetto alla tradizione la differenza è che appunto il deve l'ordine non c'è ma deve esserci mentre la tradizione ragionava in termini di l'ordine c'è chi lo sta perturbando punto interrogativo troviamo chi perturba l'ordine invece qui abbiamo diamo per scontato che l'ordine non c'è ma ci deve essere per cui la grande novità l'ordine è un artificio l'ordine si fonda sul soggetto è tutta inserita all'interno di una coazione epocale all'ordine che vuol dire il pensiero moderno è un pensiero tutto metafisico solo di una particolare una peculiare metafisica di una metafisica paradossalmente priva di sostanza priva di fondamento ecco il rapporto fra immediatezza e mediazione l'immediatezza è l'assenza di fondamento la mediazione è la coazione a produrre mediazione cioè la mediazione è una coazione certamente la mediazione è una mediazione razionale certamente cioè è il discorso del contratto ed è lo stato come stato di leggi eccetera eccetera ma questo modo di pensare ci consente di dire che fra la modernità e il modo di pensare alla politica premoderno c'è continuità formale e discontinuità sostanziale formale la continuità cioè le categorie in gioco sono le stesse unità per giustificare l'esistenza della pluralità confini per giustificare il fatto che al mondo ci si sta con una forma e non in modo informe discontinuità l'ordine è naturalmente assente e dobbiamo crearlo ma allora lei si potrà dire va bene ma qual è il risultato il risultato è che c'è se vogliamo un vulnus una instabilità originaria dentro la stabilità dello stato con questa instabilità originaria ci si può fare quello che si vuole la si può non vedere la si può chiamare l'appello al cielo cioè la si può spostare alla fine della statualità come estrema razio per liberarsi di monarchi inadeguati la si può le si può dare un nome non metafisico ad esempio si può dire che lo stato moderno si fonda sulla ingiustizia si fonda sulla alienazione si fonda sopra la mancanza dell'umanità si può dire che si fonda sulla violenza è un teologia politica è un nome del nulla che sta alla radice del tutto il nulla che sta alla radice del tutto per Marx non era per niente il vuoto di sostanza era il modo di produzione capitalistica allora lei capisce anche a questo punto che parlare di teologia politica in questo modo che è il modo di Carl Schmitt è chiaramente un modo anti-marxista cioè ve lo dico io dov'è la radice ultima del problema non è l'economia politica e la sua interna contraddizione la radice ultima del problema è che la modernità non può costruire ordini stabili è costretta a costruire ordini è costretta alla mediazione furiosamente è un sistema di mediazioni in continua modificazione che non troverà mai pace ecco allora la seconda parte del libro di Carl Schmitt nel 1922 Teologia politica è per l'appunto dedicata a far vedere quali sono le diverse mediazioni che si susseguono nel corso della storia moderna tutte caratterizzate dal fatto che mentre si cerca di chiudere un conflitto originale di tappare la falla del vuoto che sta al centro di un ordinamento si cambia la forma dell'ordinamento e ci si accorge che anche il nuovo ordinamento ha la propria origine un vuoto questo lo si può dire in modo contro rivoluzionario il contro rivoluzionario cattolico intendo mestra lo si può dire in modo più neutro ma insomma vuol dire lo si può dire anche in questo modo cioè dalla religione come forma non ci si libera mai ma in realtà meglio che religione è meglio chiamarla metafisica dalla dalla struttura metafisica del pensiero dell'ordine politico non ci si libera mai anche se cambia in modo terribile in modo catastrofico cambia la fondazione se quella struttura metafisica è esiste un centro che spiega l'esperienza e questo centro ed esperienza messi insieme devono avere una forma ecco se questo è ciò che permane far permanere ciò adoperando come fondamento Dio adoperando come fondamento l'individuo scoprire che l'individuo in realtà è il nulla è una bella differenza politica per cui il contrattualismo è una tappa intermedia fra il fondazionismo della tradizione e il nichilismo della decisione questo perché adoperare la teologia politica come che cosa c'è di critico nella teologia politica c'è la scoperta della teologia politica come metodo è una delle vie attraverso le quali si accede alla mancanza di fondamenti degli ordini moderni un'altra via era per appunto la critica dell'economia politica attraverso la quale si accede all'elemento reificante cristallo origine degli ordinamenti moderni mentre la critica razionalistica non riesce ad andare al di là di un atteggiamento di continua battaglia nei confronti di quello che di volta in volta è individuato come il nemico della ragione che può essere all'inizio della storia è l'autorità la tirannide la coazione sul pensiero è tutto quello che vogliamo e poi continuamente spostare avanti gli obiettivi individuare continue linee di frattura ad esempio le linee di genere le linee del colore che sono linee attenzione realmente esistenti attraverso il colore attraverso il genere si attuano davvero esclusioni subordinazioni gerarchizzazioni certamente ma è entro certi limiti più facile superare cioè non sono queste linee originarie anzi si suppone o se sono originarie si suppone sempre se quella che viene posta in atto è una critica razionalistica si suppone sempre che data una buona dose di denuncia indignazione e al limite violenza queste linee possono essere spezzate per cui mentre invece già con il pensiero dialettico non basta la denuncia non basta indignazione la violenza può servire soltanto se è molto ben indirizzata e molto ben organizzata nel momento opportuno cioè una rivoluzione nel pensiero negativo non si tratta di violenza più o meno qualificata perché per il pensiero negativo ovunque c'è violenza ed ecco appunto perché Benjamin e Schmidt sono gemelli che guardano l'uno da una parte e l'uno dall'altra perché anche per Benjamin la verità del diritto è la gewalt è la violenza e che cosa fa il diritto dà ordine e dà confini ma che cos'è la critica della violenza è portare alla luce l'elemento di violenza che c'è dentro il diritto non è banale perché il diritto in area tedesca soprattutto era stato adoperato come ultima fondazione della mediazione data la scarsa fortuna del liberalismo in Germania era stato il diritto particolarmente la Gemeine Statzleri a fornire la grande narrazione in cui si parlava della possibilità che l'ordine fosse ben fondato cioè il diritto è posto dallo Stato ma lo Stato quando lo pone porta alla luce la intrinseca giuridicità del reale della società ecco allora spiegare che il diritto è violenza significa al di là dell'elemento emotivo significa dire violenza vuol dire potere che non riesce a giustificarsi potere che non si potrà mai giustificare mai allora Schmidt e questo è Benjamin Schmidt invece dice il potere si giustifica sempre che non è una posizione trasimachea il potere si giustifica sempre vuol dire non chiediamo al potere troppo l'unica cosa che gli possiamo chiedere è che ci faccia vivere in ordine e allora se ci fa vivere in ordine dobbiamo accettare il fatto che l'atto originario è un atto che non nasce dall'ordine cioè l'atto che pone l'ordine è un atto che da una parte non nasce dall'ordine si fonda sul nulla come dice Schmidt dall'altra è un atto che ha come destinazione l'ordine e dunque è un'immediatezza che ha come destinazione una mediazione oltre a questo non si fonda qual è la questo almeno nella fase decisionistica del pensiero di Schmidt l'operatore che consente il passaggio dal disordine all'ordine è l'eccezione la decisione sull'eccezione e la decisione sull'eccezione non è pura violenza è violenza che contiene una destinazione mentre invece per anche per Benjamin è chiaramente una violenza che contiene una destinazione è che quella destinazione è una destinazione che a Benjamin non soddisfa per nulla cioè è una destinazione di violenza l'ordine ogni ordine è disperatamente violento e Benjamin allora dopo aver pensato questo pensa alla violenza ultima che spazza via la violenza teologia politica è molto utile perché serve tra l'altro a distruggere l'autocompiacimento diciamo così con il quale il pensiero razionalistico pensa a se stesso il pensiero razionalistico si era sentito assediato dalla critica dialettica era sulla difensiva non non oggi ma quando ero ragazzo io cioè esisteva si credeva che esistesse un'alternativa agli ordinamenti liberali democratici quando questa alternativa è fallita è stata dichiarata fallita dall'unico giudice che essa stessa aveva elevato a giudice c'è la storia il pensiero liberale è passato dalla difensiva all'offensiva e è molto interessante vedere le furiose reazioni che il pensiero liberale che nel pensiero liberale suscitano ormai non più il pensiero dialettico che viene deriso ma il pensiero negativo che suscita furiose reazioni il pensiero negativo vuoi di Foucault e Derrida che è pensiero negativo di derivazione nicciana e degheriana vuoi quello di derivazione schmittiana e appunto vedere leggere Keylisen che per tutta la vita combatte il concetto di teologia per tutta la vita dal 1921 a quando muore pensa contro la teologia politica che vuole anche dire che ne è inquietato Keylisen risolveva la questione del rapporto fra mediazione e immediatezza dicendo il diritto è mediazione immediata cioè è mediazione che non ha bisogno di alcuna spiegazione da questo punto di vista dice esattamente la stessa cosa di schmitt cioè il diritto è infondato se non che qui scatta la differenza sostanziale se non che il fatto che il diritto sia infondato in Keylisen consente allo studioso di pensare il diritto come un oggetto inanimato cioè come un sistema logico il fatto che invece il diritto sia infondato per schmitt obbliga il pensatore a considerare l'infondatezza come parte dell'oggetto non come qualche cosa che precede l'oggetto e ce lo consegna nella sua purezza ma come qualche cosa che fa parte dell'oggetto certo anche con il pensiero di Keylisen sostanzialmente si fa di tutto il diritto può essere infinitamente manipolato perché è nient'altro che un algoritmo col pensiero di schmitt altrettanto si fa di tutto per un'altra via cioè per il fatto che si adopera come strumento la decisione comunque la comunque sia la potenza dell'approccio teologico politico è oggi importantissima è un approccio che mostra come ciò che è i dati dell'esperienza complessa dell'umanità sono spiegati non solo da se stessi ma da un sistema questo questo sarebbe il discorso hegeliano è l'intero che spiega la parte l'intero che è contenuto nelle parti spiega le parti o Axiano l'intero il capitalismo che è tutto contenuto dentro un pezzo di merce spiega la merce con la teologia politica si può dire è l'intero che spiega la parte l'intero è il contesto che spiega gli eventi ma quale contesto ecco il contesto metafisico allora dire che oggi esiste un contesto metafisico fa sobbalzare diciamo sono le coazioni intrinseche implicite nelle grandi categorie della politica che spiegano il modo in cui la politica viene fatta o il modo in cui la politica viene distrutta teologia politica non vuol dire soltanto una politica motivata religiosamente questo è l'esempio più banale per cui un atto X politico è spiegato da una religione che ne è il contesto una religione che lo precede questo è l'esempio più banale davanti al quale si può dire sì ma queste sono cose da selvaggi noi moderni europei bianchi razionali liberaldemocratici queste cose non le facciamo più da un bel po' di tempo ecco teologia politica è portare alla luce il rapporto di mediazione di immediatezza che costituisce la trama di tutte le nostre esistenze e lo vediamo certamente non lo si vede tutti i giorni lo si vede in momenti se si vuole lo si vede tutti i giorni ma insomma tutti lo vedono in alcuni momenti privilegiati la nostra la nostra epidemia è precisamente un momento in cui si è si è intravisto l'elemento di immediatezza che sta sotto la mediazione l'elemento di immediatezza molto modesto si chiama DPCM che sta sotto la mediazione che in questo caso è la costituzione è l'ordinamento costituzionale noi avevamo visto questo quando ma non l'avevamo voluto capire quando la nostra costituzione è nata la costituzione è una mediazione è un ordine che nasce da un'immediatezza ma non l'abbiamo voluto capire nasce da un'immediatezza e la porta dentro di sé non nasce e se ne dimentica nel nostro caso la costituzione nasce dalla guerra civile e quindi è antifascista non accidentalmente ma sostanzialmente a un nemico interno che poi questo nemico venga trattato coi guanti cioè che quella nemicizia venga trasformata in crimine cioè il crimine di ricostituzione del 18 partito fascista indicato in costituzione sanzionato dalla legge scelba del 53 eccetera questa è un'altra storia comunque è come tutti gli ordini è un ordine orientato non è un ordine neutro però di questo ci siamo dimenticati abbiamo una costituzione schmittiana che è stata letta per decenni in chiave chelzeniana schmittiana non vuol dire che chi l'ha fatta conoscesse Carl Schmitt tranne mortati non lo conosceva nessuno ma schmittiana perché ha le norme di scopo cioè i principi fondamentali cioè si dice fin dall'inizio che la costituzione non è neutra noi adesso davanti a una diversa a una diversa eccezione che non è più una guerra civile ma è un'epidemia scopriamo che una costituzione ha dentro di sé un tasso di elasticità e un tasso di violenza inaspettate cioè scopriamo che la costituzione per quanto ci possa sembrare strano anche la costituzione italiana è un dispositivo sovrano cioè è un dispositivo che serve grazie al quale si operano inclusioni ed esclusioni secondo la legge quando si può fuori e contro la legge quando si deve poi tutto ciò può essere necessario utile ragionevole però per cui io non sono fra quelli che dicono che ciò che abbiamo conosciuto noi è un caso d'eccezione in senso proprio abbiamo conosciuto un'emergenza che è una cosa diversa però dietro l'emergenza che è ancora un concetto giuridico che può essere messo nero su bianco può essere ridotto a fatti specie dietro l'emergenza chi ha un po' di fiuto o di immaginazione vede l'eccezione e dunque si torna a vedere ciò che per un giurista chelzeniano è impossibile impensabile assurdo cioè che il diritto contiene non proviene dal ma il diritto contiene il non diritto la critica guarda dall'esterno l'oggetto porta alla luce le sue contraddizioni solubili o insolubili o escludibili in verità le cose sono un po' più complesse che una vera critica è anche autocritica cioè mette in discussione la propria neutralità ed innocenza la critica è al tempo stesso necessaria è impossibile o meglio necessaria e arrischiatissima perché fino a quando non riuscirà a dar ragione di se stessa cioè diventare critica assoluta è sempre soggetto alla domanda ma tu come ti permetti ma tu chi ti quella la tua posizione la posizione che assumi perché l'assumi come osi assumere una posizione superiore come osi è dopo tutto ancora una storia del soggetto la tua cioè un soggetto che si alza e giudica e allora di nuovo fra l'uomo e le cose l'uomo europeo ha messo il soggetto come diceva come diceva Nietzsche questo va va pensato fino in fondo una vera critica è critica dell'oggetto del soggetto e delle forme e di se stessa però è anche vero che così non si va da nessuna parte e invece da qualche parte bisogna andare e quindi il gioco al massacro non può non può essere eterno infinito e in ogni caso la decostruzione non dico si deve fermare perché non deve fermarsi ma se vuole può fermarsi accettare la propria contingenza accettare la propria ingiustificata determinazione il fatto di essere orientata da una parte o dall'altra non dico accettare determinati valori perché la parola valore per me è pressoché una parolaccia ma insomma accettare che esistano dei punti di vista plurimi e affermare di ricoprirne identificarne uno fra essi ecco io di più non riesco a dire non riesco a dire che esiste una critica assoluta grazie alla quale si sa la verità è assurdo non riesco però nemmeno a dire che la critica si è un gioco paranoide del sospetto e che come tale va abbandonato lasciando che l'essere sia perché lasciare che l'essere sia è una vecchissima storia che ci siamo lasciati per sempre alle spalle e quindi non possiamo reinventarcela oggi siamo dentro una macchina che è la macchina della metafisica tutti quelli che cercano di uscirne fanno più danno la globalizzazione era per certi versi nella nella autoconsapevolezza di coloro che l'hanno promossa era una mossa per uscire dalla metafisica moderna cioè dall'oggetto fondamentale della metafisica moderna lo Stato era una mossa per costruire un'unità mondiale senza progetto dunque senza ordine dunque senza centro dunque senza mediazione una immediatezza globale o meglio una mediazione immediata globale beh non ha funzionato è stato facilissimo dimostrare che prima di tutto è una metafisica anzi è praticamente la riproduzione dell'idea di Dio in questo mondo e in secondo luogo che è venuta meno rispetto al proprio principio essenziale cioè l'unità l'unità del mondo è impossibile la metafisica non regge l'unità del mondo la metafisica ha a che fare con la contingenza dire che la metafisica regge l'unità del mondo è l'analogo oggi ventunesimo secolo del dire che tutto il mondo deve essere eretto da l'impero cristiano cattolico universale governato dal papa cioè una forma di metafisica tradizionale che crede davvero che esista un fondamento tanto potente da reggere l'intero mondo la metafisica che con la teologia politica si porta alla luce è una metafisica non impotente no ma una metafisica che riconosce la propria potenza come potenza determinata entro un certo raggio espresso in chilometri cioè gli stati e tant'è vero che dalla globalizzazione siamo entrati nella deglobalizzazione i chilometri sono diventati di più ma i centri sono più di uno la scena politica mondiale è plurima è pluralistica e ciascuno di questi centri è un sistema politico fondato sulla metafisica dell'ordine che è una metafisica ben fondata dal punto di vista di chi la abita mentre invece è contingente dal punto di vista di chi la guarda come studioso ecco naturalmente la contingenza degli Stati Uniti è molto più alta della contingenza della Cina ma questa è un'altra storia insomma dalla metafisica non si esce pensare in un mondo in modo non metafisico lasciare che il mondo sia è il sogno del pensiero ecologico ma ho l'impressione che il pensiero ecologico sia straordinariamente poco efficiente cioè non non consente il sussistere della razza umana in questo pianeta naturalmente l'ecologista a questo punto risponde è il pensiero della potenza è il pensiero dell'efficienza è il pensiero metafisico quello che porterà all'estinzione della razza umana e io posso dire hai ragione anche tu però tornare indietro non si può andare avanti forse ma tornare lasciare che l'essere sia che poi è stata l'ultima parola di Heidegger e probabilmente il senso ultimo del pensiero ecologico ecologista vuol dire uscire dalla logica dell'opera dell'operare vuol dire uscire dalla logica dell'efficacia della potenza del rapporto soggetto oggetto che sono tutti rapporti logiche contingenti con la tecnologia politica e questo si impara che sono abitate dalla contingenza ma una volta che si è imparato questo non si è detto necessariamente che devono essere o che possono essere buttati via la teologia politica non conosce Aufhebung è pensiero negativo la contraddizione c'è e te la tieni la contraddizione c'è e resta è una contraddizione di principio con la teologia politica si smaschera si costruisce qualche cosa di diverso ma di analogo a ciò che si critica ma il totalmente altro non al totalmente altro non arrivi agli occhi di un realista c'è troppa critica agli occhi di un critico decostruzionista c'è troppo realismo la mia non vuole essere un giusto mezzo vuole essere la indicazione del fatto che se la filosofia non si confronta con la realtà dell'esperienza non serve a niente non è giustificata secondo il mio parere io non faccio il logico faccio lo storico del pensiero politico del pensiero filosofico voglio che la filosofia mi offra chiavi radicali di interpretazione della realtà cioè voglio non voglio servirmi degli strumenti che la realtà produce da se stessa per giustificarsi voglio conoscerli me ne servo ma voglio andare oltre questi strumenti sono le scienze sociali ovviamente voglio andare oltre come minimo come Weber che fa il sociologo e a un certo punto si accorge che bisogna fare qualche cosa bisogna essere qualche cosa di più che sociologi per capire realismo critico significa confrontarsi con i fenomeni della realtà politica con il fatto che la politica è un sistema di potenza ricerca di potenza di esistenza per la potenza e al tempo stesso di esistenza per la potenza per l'ordine senza sconti senza infingimenti e al tempo stesso non dico non accettare ciò perché non è questo il punto e al tempo stesso adoperare il pensiero non per spiegare assecondando i processi ma per spiegare i processi a partire dalla loro radice appunto un marxista direbbe tutto vero ma alla radice c'è la contraddizione data dal sistema di produzione capitalistico io dico tutto vero ma alla radice c'è tanto quella contraddizione lì che non è certo avvenuta meno quanto quest'altra che io cerco di portare alla luce cioè la coazione metafisica all'ordine che al tempo stesso è una impossibilità di ordine e dunque il fatto che non si riesce a ragionare se non in termini e a operare se non in termini di ordini contingenti ma chi si sforza di vivere senza pensare all'ordine o è un ipocrita perché ci pensa in realtà o è destinato allo scacco chi pensa soltanto all'ordine come potenza è a sua volta destinato allo scacco perché non sa che quell'ordine è abitato da una contraddizione originaria che non è superabile è un'ordine è un'ordine è un'ordine Grazie a tutti